Allora, caro ministro, io spero che oggi io esattamente sono venuta qua a parlare della scuola, dei miei diritti, cosa mi piaceva fare in questo momento. Io esattamente vorrei che voi dovete cambiare un po' di cose, vorrei che voi, visto che quest'anno finisco la scuola, se mi potete esattamente aiutare, anche se abbiamo difficoltà, delle cose che noi abbiamo esattamente, anche a parte delle cose che non abbiamo. Ad esempio, faccio un esempio, io vado a scuola, mi impegno e studio, il problema è se io non capisco esattamente il problema dei professori che parlano troppo veloci. Ho spiegato questa cosa in ipotenieria e ho detto che quest'anno ho l'esame della maturità e vorrei provare a fare questa cosa anch'io.